Un'istituzione per la periferia est di Trieste, un punto di riferimento per la vicina zona industriale, un passato notturno di cui molto si potrebbe raccontare, ma anche un luogo di ritrovo strategico domenicale per i triestini che venivano a bere un caffè prima della partenza verso le coste dell'Istria. Dopo 33 anni di attività il Bar Flavia chiude i battenti. In effetti era un'istituzione, andava tutti là, anche prima si è venuta lì, la polizia, quasi di rio, e si è andata e si è restati perché non lo trovo chiuso. Infatti adesso ho letto, sei in Stavros. E' rimasta male? Pochino sì, dai. Tutti i gentili, tutti i cofali, tutti i servizievoli, specialmente con gli animali. Io pomeriggi passavo di qua, mi bevevo il caffè, magari anche con le mie signore vicino a me, venivamo, facevamo la passeggiata, si veniva qua a bere il caffè, adesso non so cosa faremo. Dislocato sullo snodo viario fra Via Flavia, Piazza Le Cagni e Via Caboto, il Bar Flavia ha più che un locale e un'istituzione popolare, la risposta rustico, metalmeccanica, ai caffè alla moda del centro storico, fra schedine del totocalcio giocate col sistemone fra colleghi e raffiche di neri corretti vecchia Romagna. Il motivo dell'improvvisa chiusura lo spiegano le due titolari, Linda e Letizia, con una lettera dedicata ai clienti. Per avvenimenti avversi, molto gravi anche sul piano umano, non dipendenti dalla nostra volontà, siamo obbligate a chiudere. E poi, nello spirito di chi in quel locale ha vissuto la storia di generazioni, abbiamo visto passare la vita di molte persone, anche a noi care, giovani amori, nascere bambini, grandi amicizie, madri, padri, mogli, sorelle, storie di ogni tipo. Qualcuno ci ha lasciato, in 33 anni abbiamo visto e vissuto molti avvenimenti. Grazie.